Dopo la segnalazione di un cittadino pesarese, gli uomini della guardia costiera al comando del capitano di fregata Angelo Cappuzzimato hanno sequestrato prima dell'alba 112 ombrelloni, 86 piedi porta ombrelloni, 29 lettini e alcuni bauli porta attrezzature. Erano stati installati da alcuni giorni e lasciati in maniera del tutto irregolare sull'arenile antistanti Camping Nurina e Marinella in località sottomonte Ardizio del comune di Pesaro. Come noto, il comportamento da mantenere in spiaggia e l'uso della spiaggia libera sono disciplinati nel dettaglio dalle norme sull'utilizzazione del litorale ed emaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative, Edite dal comune stesso il 29 maggio 2002, in particolare l'articolo 2 dispone il divieto di lasciare oltre il tramonto del sole tende, ombrelloni e varie attrezzature come lettini, sdrai o sedie. La norma ha l'obiettivo di restituire ogni mattina l'arenile alla collettività impedendo la prepotenza di chi si legge in una nota della guardia costiera impiantando il suo ombrellone pensa di prenotarsi e mantenere quella posizione per tutto il tempo desiderato. Grazie a tutti.